eccoci qua finalmente a bordo di costa venezia siamo a istanbul e finalmente possiamo ammirare questa bellissima nave originariamente ideata per il mercato asiatico e che causa covid è ritornata nel mediterraneo e che ci regala questo itinerario insolito un itinerario davvero insolito dovremmo scoprire appositamente creato per il mio compleanno grazie dovremmo scoprire dopo aver festeggiato il compleanno di vino le tappe di cusa d'asi eracleon quindi creta e poi i rodi e poi di rientro saremo di nuovo a istanbul potete vedere sono tutti i dettagli veneziani mettiamo i pannelli con le vedute veneziane è molto curata nell'arredo molto particolare diversa dalle altre proprio per dare quel tocco di italianità in mente nel popolo asiatico di venezia si vede che siamo proprio questo mini desk con questo specchio e questo vanity desk mignon poi abbiamo un armadio due armadi ma poi inseriremo la carta e accenderemo le luci questo è il vanity desk con la macchina per il caffè è tornata la macchina per il caffè brava esattamente con lo zucchero qui abbiamo la nostra magnifica frutta che è ritornata in auge ormai mi sento un po come orietta berti su costa toscana che aveva finalmente anche lei il cestino di frutta è ritornato qua vedete apriamo il nostro affaccio sul città di istanbul esattamente sul porto con la torre di galata a sinistra e il porto recentemente ha rinnovato abbiamo il ponte di comando ritorniamo dentro adesso metterò all'interno la sua sede le testere che sono quelle nuove andiamo a inserirla e vediamo la magia di questo armadio gigantesco direi o quasi e qua c'è un'altra cabina armadio con niente po po di meno che gli ombrelli costa invece ci sono gli ombrelli speriamo di non averne bisogno qui abbiamo il bagno doppio e una cosa molto ricercata che è l'idromassaggio tolto dalle vecchie navi ma resiste su questa nuova bellissima jacuzzi in stanza per deversi dopo le lunghe passeggiate a istanbul esattamente eccolo qua questa era suite ponte 7 avremo tutti un buon viaggio chi vorrà se ne sa chiama istanbul per valutare Grazie.